Qual è la cosa? Sui segreti, Sir. Problemi? Si è senza controllo, Sir. Sono 11. Edward, che cosa hai fatto? Io mi sono rialzato con le mie forze. Ho preso la vita per la gola. E ho costruito un impero dal nulla. Vuoi fare l'eroe? Allora perché non chiami la polizia, dato che ci tiene così tanto? Sono l'unico che potrebbe venire a capo di questa storia. Ampli? E tu, ragazza? Che mi diresti se venissi a stare qua? Solo io e te. Ti ha mandato lei. Non ho niente da nascondere. Veda si è depresa con quello sbagliato. Ora tocca a te, Filippo. Mane sull'auto. Susi. Vi abbiamo un problema, madame. La situazione è molto peggiori, da ci siamo pensati. Ci sono... ...che... 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 La vita non è sempre la festa in cui speriamo, però finché siamo qui balliamo.